Iniziativa organizzata dai circoli Legambiente Ricadi e la Ginestra dal Comune dell'Istituto Comprensivo di Nicotera nell'ambito della campagna Puliamo il Mondo che si è tenuta a Nicotera nel quartiere della Giudecca. Puliamo il Mondo dai pregiudizi è stato il tema che gli organizzatori hanno voluto affrontare coinvolgendo gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, tutela dell'ambiente e inclusività nel solco della giustizia climatica, ovvero la necessità che la giustizia ambientale prosegua di pari passo con la giustizia sociale e la solidarietà, un messaggio di speranza contro tutte le discriminazioni per un futuro sostenibile. Teatro scelto per l'iniziativa è stato lo storico quartiere della Giudecca, il più grande quartiere ebraico esistito in Calabria, un luogo ricco di storie e di significati che nei secoli scorsi ospitò una comunità ebraica e che ha caratterizzato il paese come una comunità aperta, ospitale e anche tollerante dal punto di vista religioso. L'ospitalità, sostenibilità e bellezza e paesaggistiche caratterizzano questo luogo percorribile solo a piedi attraverso un dedalo di vie non accessibili alle auto e lo rendono il posto ideale per discutere di inclusività e tutela ambientale. Con questo spirito gli organizzatori hanno accolto gli studenti alle porte della Giudecca di Nicotera accompagnandoli in un viaggio storico, culturale e ambientale. Molti i temi trattati dall'inclusività e tutela ambientale, i fenomeni che sono alla base delle migrazioni, al ruolo e all'attività svolto dalla scuola nell'ambito dell'educazione ambientale fino alla storia della quartiere.